Oggi, come nel passato, il disegno geometrico è lo strumento tramite il quale si immaginano, si regolano e si costruiscono le città. L'eco di geometrie regolari assolute nel contesto fiorentino è persistente nel tempo, nell'arte, così come nell'architettura. L'area di intervento collega il tessuto urbano circostante in modo versatile e capillare. Il progetto ordina gli spazi e rappresenta una vera opportunità di ricucitura e integrazione del tessuto cittadino. Le sue fondamenta si radicano in una matrice di forme geometriche chiare e proporzioni rigorose, in grado di generare un'estetica coerente. L'impianto dello stadio prende spunto dalle geometrie classiche radicate nella storia della città. Il podio ottagonale risolve il sistema degli accessi, dando forma ad una piazza sopraelevata su cui sorgono gli spalti per ospitare i 40.000 tifosi. È un'arena moderna dove tutti godono di una visuale perfetta e un'incredibile vicinanza alla squadra, soprattutto grazie ad un catino che, con la sua siluetta fiore, consente di privilegiare i posti migliori ed eliminare tutte le posizioni più lontane delle gradinate. Un involucro moderno e funzionale, come un sipario permeabile alla città e al paesaggio, avvolge la scena e si alza per raccogliere i tifosi viola, mentre una copertura efficiente e leggera fornisce una protezione completa per tutti gli spettatori. Il nuovo stadio della Fiorentina rappresenta la sintesi delle più moderne esperienze internazionali, un caso esemplare per l'esperienza del tifoso, per le dotazioni tecnologiche presenti, così come per l'impiego di risorse sostenibili a basso impatto ambientale. I servizi per i tifosi sono diffusi e accessibili in tutti i settori. Un'attenzione specifica è stata dedicata alle famiglie, con spazi e servizi dedicati. La Tribuna Est è dotata di servizi diffusi per gli spettatori ed il loro baricentro è rappresentato dal Museo della Fiorentina e dal Ristorante Panoramico con vista sul campo da gioco. Analogamente, nella Tribuna Ovest, oltre ai servizi per gli spettatori, per gli atleti e per i giornalisti, vi sono 48 palchi e un'ampia dotazione di spazi per eventi, che consentono allo stadio una sua vita anche nei giorni infrasettimanali. La nuova Curva Fiesole, infine, accoglie la passione più intensa, l'orgoglio dei tifosi viola per la maglia giliata, che arriva in campo dove rappresenta la barriera più alta per gli avversari. La nuova Curva Fiesole porta i tifosi a soli 7 metri dal campo, il vero cuore pulsante dello stadio viola. La nuova Curva Fiesole La nuova Curva Fiesole La nuova Curva Fiesole Grazie a tutti.